Hey! State per guardare la quinta puntata della seconda stagione del Breaking Italy Podcast con degli ospiti un po' particolari, sia per le tematiche affrontate, che ammetto essere un po' lontane da quelle più classiche, nel mio tentativo di uscire dalla bolla, sia per il tipo di podcast che è emerso, sostanzialmente perché i tre ospiti, cioè Aurora, Fru e Ciro dei Jackal, sono incontenibili. Mi sono divertito tantissimo a registrare questo podcast con loro. Se non eravate tra il pubblico di quella sera, sarà una di quelle volte in cui desidererete di esserci stati. Vedrete. Per me è stato personalmente emozionante invitare un pezzettino dei Jackal, perché prima ancora di essere un famoso gruppo comico, sono degli youtuber della vecchia scuola, però, della primora, e siccome sono sempre stati molto bravi, hanno anche rappresentato per anni un'ispirazione per tutti gli altri, me compreso, e venire quindi a scoprire, guardando le loro cose, leggendo il loro libro, che durante questa crescita hanno avuto tantissimi problemi che io stesso in Breaking Italy affronto tutti i giorni, legati al far crescere i progetti ma non sapere come, con pochi punti di riferimento, immersi nell'incertezza, è stato di grande ispirazione personale. C'è una ragione per cui ho invitato Ciro, Fru e Aurora, perché rappresentano tre fasi diverse della crescita dei Jackal. Ciro, che è mio coetaneo, è rappresentante degli albori del gruppo, Fru come ingresso successivo, non la fase in cui ci si espande, e Aurora come ingresso recente, il momento in cui ci si espande ancora. E vederli interagire tra loro sarà molto interessante e molto divertente. In attesa di registrare il prossimo podcast a San Valentino, peraltro, link dei biglietti in descrizione, se ce ne sono ancora disponibili, ringrazio di cuore chi ci sta dando una mano con questo progetto del podcast, che spero vi stia piacendo, vi sia piaciuto sino a qui. Ed è Tridom. Tridom, che peraltro ha in vendita delle limited edition di San Valentino. Adesso ve le mostro, ma se per qualche ragione ancora non li conosceste, sono quelli con cui collaboro da anni, che piantano gli alberi. Stiamo parlando di un'azienda italiana che si sta espandendo tantissimo, anche oltre i confini nazionali, e che pianta alberi in diversi paesi del mondo, dall'Africa all'America Latina. Sia per perseguire ovvi obiettivi di impatto ecologico, no? Quindi combattere la deforestazione, contrastare le emissioni di CO2, e il cambiamento climatico, sia anche sociale. Perché gli alberi che comprate vengono poi seguiti dalle comunità locali, che ne beneficiano anche in termini economici. E la cosa carina è che, invece di farvi fare donazioni generiche, che vanno in foreste generiche, vi permettono di comprare singoli alberi o gruppi di alberi, che poi realmente vengono piantati. C'è un rapporto uno a uno. Voi saprete che quell'albero che avete comprato esiste, e avrà una precisa e unica geolocalizzazione. Ora, dicevo, Tridon ha creato degli alberi speciali per San Valentino, che hanno una grafica particolare, che rimarrà quella, durerà per sempre. Più o meno come l'albero in sé, o gli alberi che andrete a regalare. Sono un po' pensati per quello, infatti, per essere regalati. E ce ne sono un sacco. Da una coppia di alberi di Mango, o di Baobab, all'Anacardo, al Palissandro, e regalare un albero, che sarà per sempre in uno specifico luogo del pianeta, è la versione moderna e amica dell'ambiente dell'incidere i propri nomi su una corteccia, direi. Quindi, voleste fare un bel regalo a qualcuno di importante? Codice Shy Love. Sino al 15 febbraio, quindi uno oltre San Valentino per i ritardatari, potete inserirlo al checkout per avere il 15% di sconto e fare un regalo speciale. Bene, era tutto. Vi lascio la mia lunga chiacchierata con i giacal, che ringrazio ancora per aver condiviso il palco con me e avermi fatto ridere così tanto. Quindi, prendetevi da bere, state attenti a non versarvelo addosso, perché riderete anche voi, e mettetevi comodi. Sarà interessante. Dal Teatro Franco Parenti di Milano, Breaking Italy Podcast, Alessandro Masala. Buonasera. Buonasera, grazie mille. Grazie. Grazie per essere ancora qui. Grazie mille, grazie. 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 Super, grazie. Grazie. Benvenuti alla quinta puntata della seconda stagione del Breaking Italy Podcast. Ho detto bentornati, nel senso dando per scontato che siamo sempre noi, che ce la cantiamo e ce la suoniamo, magari anche un po' così. Però grazie per essere qui, sono contento di nuovo, mi diate fiducia, siete venuti a sentire delle persone che non avete sicuramente mai sentito nominare, non avete idea di chi siano. Sarà interessante. Normalmente avrei fatto un'introduzione dicendo vediamo di scoprire delle cose interessanti, di andare oltre la maschera del personaggio, questa cosa me la tiro dietro a me da cinque puntate. Non prometto niente, nel senso che mi stavano già facendo ridere mentre ero dietro le quinte. ed è, insomma, sarà complessa. Mirto, grandi promesse. Insomma, vi chiedo solo un applauso per un pezzettino piccolo piccolo dei The Jackal. Wow! Ognuno fa... Ma sbaglio, sbaglio avevano detto prima dietro le quinte, no? La sala è mezza piena. Ho mentito. Questo sarà un po' il leitmotiv di tutta la cosa. Io mentirò di continuo. Le bugie. Subito abbiamo pensato ah, napoletani, non sono venuti. Ma guarda quante FFP2. Mai viste così tante, tutte in zim. Tutte in zim poi, tra l'altro. Tutte bianche, ne vedo una rosa. Facciamo l'elenco. Sono un po' emozionato, devo dire, perché non ricordo quando è stata l'ultima volta che mi sono trovato, che ci siamo trovati davanti ad una platea così... Così bella. Fagli complimenti. Bravi. Un applauso lo faccio io a voi. FFP2. Crucialissimo da pubblico. No, 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 perché sono emozionato sul serio, davvero. Mi piace pensare che poi questo podcast verrà anche solo ascoltato, cioè senza la parte video. Magari poi lo pubblicherai anche solo audio. Sì, sì. Possiamo illudere quelli che lo ascoltano. Possiamo dire tutto quello che vuoi. Esatto, esatto. E c'è anche Fabio qui. Fabio, come va? Eh, oggi ha mal di cula. Ma beh, non pensavo che i tuoi podcast si potesse fare sesso, cioè, enfatea, incredibile. Sì, sì, sì. La prima fila, eh. Benone. Allora, abbiamo una tradizione da rispettare? Sì. L'acqua. L'acqua. Ah, lo sciottino. Sì. Chi di voi ha mai bevuto del mirto? Io mai. Perfetto. Nessuno di voi due? No, sì, certo. Ah, ok. Ciro, dove hai vissuto? Scusate. Non ho mai bevuto il mirto, scusate. Molto bene. Viva la Sardegna. Grande. Si dice così. E come si dice a Napoli, chi te è il mirto? Viaggio inizio a teatro. Com'è Ciro? Uh! Buono. Ok. Sembra lo sciro... Sa di... Qualche... Ma che offendi... No, no, di qualche sponsor... Propoli. No, 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 no. Ah, ok. Lo sciroppo che prendo per la tosse. Bello che si è assicurato prima se ci fosse qualche scione. No, se no era buonissimo. La ragione va bene. Ma lo sponsor... No, buono, buono, buono. Poi tra l'altro io amo lo sciroppo. Cioè, mia figlia... Non sto scherzando, mia figlia è una cosa che odia da morire. È quello di sua figlia. Ok, ma io mi ricordo... Ma no, dice quello lì viola, avete presente? Quello è il tempo di la trappa, come... Vedete se ne penso là, sciroppo cade basso come l'MD. Quello prende... Non ho un'idea di cosa... Di cosa sto parlando? Che sei vecchio! Non le sai queste cose di noi giovani. Il problema sarà un po' quello, no? Nel senso, io volevo iniziare, volevo fare tutto il podcast usando il libro che avete scritto... Guarda, ha scritto Simone? O l'avete scritto tutti? Sì, dal punto di vista di Simone, però comunque... Dal punto di vista di Simone, però... Una parola a testa. Una parola a testa. Io i pronomi. Tu hai scritto solo i pronomi? Grazie. Piaciuti veramente i pronomi. È la cosa che mi è piaciuta di più del libro. Ciro, un pronome a caso. Noi. Abbiamo alzato il livello dei podcast. C'hai... Kit e Mirto, noi. Io ho piazzato delle virgole a caso. Infatti, si è visto che era scritto un po' male. Io non le ho apprezzate. No, se i periodi ti suonavano strani è perché avevo piazzato delle virgole a caso. Tu sei arrivato alla fine, hai fatto anche io do il mio contributo. Ok. Il libro, per chi non l'avesse letto, ve lo consiglio, è molto carino. Lo devo dire. Grazie. È un bel libro. Grazie. Racconta in realtà tutta la storia... Mario, ritira i cecchini. Racconta tutta la storia di Jackal, proprio dagli albori, in cui voi non eravate nati sostanzialmente, ad oggi. Sì. Quindi, uno dei rischioni che voi dovrete in un certo senso contrastare è che io e lui iniziamo a parlare dei vecchi tempi. Ah. O di figli, ancora peggio. E noi ogni tanto diciamo cose tipo cringe. Esatto. Parole dub. Esatto. TikTok. E fatte le robe così. Ci ha provato, ci ha provato. Vabbè, ma io... Ok. Io mi impongo un po' a metà, diciamo, in questo caso. Ma infatti, in un certo senso, io vi ho scelto un po' per quello. Deludendo tutti. Perché poi c'è, Cioè, volevo Fabio, volevo Simon. Scusate, è una cosa che succede sempre ogni volta. Vero? Sì. Cioè, nel senso, noi siamo spesso smembrati all'interno di alcune cose che facciamo fuori. E ogni volta, quando ci sono tipo Fabio e Claudia da qualche parte, gli dicono in continuazione, oh, ma dove sono Ciro, Fru e Aurora? E che sta a toccare? E hanno la stessa cosa. Dicono, cioè, ci vorrebbero sempre uniti. E questa è una cosa bellissima. È una cosa bellissima, ma è problematica, nel senso che siete 100, ma ti siete 70. La ventina. È una ventina, 20-25 forse. Anche perché noi talent siamo solo, ecco, la punta dell'iceberg, però molte persone non sanno che in realtà dietro c'è proprio tutto una produzione fatta di professionisti, sceneggiatori, registi. Diciamo che per averci tutti devi organizzare una partita a calcio. Comunque manca sempre l'ultimo, capito? C'è il senso che non viene. Sì, no, siamo davvero tanti. Mi fa piacere dirla questa cosa ogni volta, perché molte persone pensano che noi siamo veramente un gruppo di amici che prendono una telecamerina e via, però in realtà dietro c'è un team di professionisti che ringrazio ogni giorno perché fanno un lavoro veramente splendido. Che cuore nobile. Vero, incredibile. Sono quelle cose che... Stai già preparando di essere un attore che dice proprio... Che dice cose così smielate. Esatto, sì, grazie. E io mi sto esercitando il costumista. I costumisti, tutti i lavoratori dietro, il fonico. Perché dietro? Ora fa pure così, Ciro. Io vorrei... Il primo David che spero di vincere. Ok. Sarò sul palco e dirò... Per questa... Io ringrazio tantissimo per questo premio. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che appaiono sui titoli di coda. Molte persone escono dal cinema nel momento in cui arrivano i titoli di coda, ma io le vorrei ringraziare e prendo la lista e faccio... Leggo tutti i titoli e dico... Perché li devono sentire. Sì. No, no, così. Scherzi. No, sì, sì. Ma qual era l'altra domanda? Non c'è alcuna domanda. No, la domanda è questa. La mia prima curiosità è questa. Il libro, dicevo, un mezz'ora fa. No, ma sarà così, eh? No, no, ma io lo spero. Bella sta giacca. In realtà è un'altra cosa che non... Continuiamo a rinviare la domanda. Innanzitutto, mi fate un applauso per la giacca. Bravo. Grazie mille. Sciaglia ai piedi? Mi è costata un litigio con mia moglie sta giacca. Non se ne è accorto. Sta facendo il nostro gioco. Continuiamo a dire stupidaggini e così rimandiamo le domande. Vai. Il libro inizia agli albori dei da giacca e quindi siete sostanzialmente voi bambini o poco più che bambini in garage, che è proprio un cliché. Il garage di tuo padre, peraltro. Il garage di casa mia. In cui facevate i video, lo dite voi, fate i peti, fate le parodie dei film, eccetera. E poi raccontate tutte le difficoltà e come siete arrivati a quello che siete arrivati. Per quello è molto interessante. La cosa che mi ha colpito, ovviamente, loro due entrano tipo alla fine del libro. E poi sono arrivati loro due. A me hanno dedicato una pagina su 250. E c'è anche Aurora. Finisce così. Il libro finisce proprio così. Abbiamo spoilerato la fine, ma leggetelo lo stesso. Per scoprire chi muore. Quindi... Non noi, perché siamo... Esatto. Ecco il che va così. Volevo chiedervi, voi eravate fan di The Jokal prima di entrare a lavorare per The Jokal. Sì, io ero un grandissimo fan di The Jokal, proprio come racconta il libro. Infatti, ricordo che il giorno in cui sono stato contattato da Ciro per partecipare come comparsa in un loro video, a casa mia fu una grande festa. Cioè, io disse, mamma, mi ha chiamato quello di The Jokal. Mi ha chiamato. Perché lei sapeva chi erano The Jokal. Ciro mi chiamava, ma era incredibile. Ora adesso Ciro è tipo stronzo. Ma che dici? Mi fai gli scherzi. Invece prima era una festa se mi chiamavano. Oddio, un po' è così a sua insaputa. Grazie, è riso una persona. Grazie, cugino. Cugino. Cugino Fru. Quindi sì, sì, io ero un grande appassionante di The Jokal, perché io appartengo un po' a quella generazione che ha visto crescere YouTube insieme a lui. Cioè, come si parla in italiano? si parla. Il pronome. Il mito. I pronomi. I pronomi. Insieme a lui. Siamo cresciuti insieme a YouTube, quindi tutta quella golden age YouTube in cui sono nati i primi grandi canali del web come appunto The Jokal o, un a caso, Breaking Italy. Possiamo dirlo. La mia generazione è stata investita proprio da questa cosa, quindi proprio i miei pomeriggi erano su YouTube ed erano a guardare i vostri video. Io ricordo l'esplosione dei The Jokal che ero al liceo, pensa Ciro. Mamma mia. La difesa. Tu eri al liceo con l'esplosione dei The Jokal intendi il periodo... Gli effetti di Gomorra chiaramente hanno consolidato... Che per me sono l'altro ieri. Secondo me l'avete appena fatto. Però era il 2016? 2014. 2014. Il primo episodio, sì. Sì, io ero in secondo liceo e ricordo benissimo che appunto erano i video che si vedevano in classe e da lì poi paradossalmente ho fatto, capito, uno studio retrospettivo e grande fan dei The Jokal perché adesso lo dico da interna ma lo pensavo da esterna i The Jokal veramente nobilitano il titolo di youtuber come persone che fanno dei veri e propri cortometraggi che si vede si vede la qualità delle immagini si vede la qualità della recitazione anche gli effetti di Gomorra si vede quanto è bravo questo ragazzo che è bello ma che bello ma perché non mi dici mai queste cose ma perché dobbiamo strumentalizzarle ah lo fai a posto allora bacio te lo dici da sola? nella speranza che parta un coro e io coroni questo mio desiderio nascosto ma torniamo a chi ascolta solo il podcast smettetela di appiccare quell'incendio si sono davvero baciati non ci posso credere a giugno mi devo sposare non più dire la cosa che al podcast di Alessandro si va nudi scomodo ma bello la mia curiosità però è più su cosa succede quando voi vedevate la sua figura tu in questo momento sei un oggetto ne parliamo di te io sono molto l'oggettificazione del Ciro una persona che stimi così tanto ipotizzo e poi inizia a lavorarci entri in un ambiente cosa succede? io mi ricordo il mio primo giorno in ufficio entro in sala autori e vedo Ciro che per me era proprio l'emblema dei The Jackal e dietro Ciro c'era questa tv con una mia immagine a Italia's Got Talent ok perché tu sei stata scoperta lì sono stata scoperta lì e Ciro ha un telecomando in mano si gira e fa scusa ma non sapevo chi eri e mi stavo incormando quindi questo è stato il mio impatto traumatico con Ciro che però poi adesso senza esatto plagerie più di tanto però si è rivelata una persona molto umile io il primo dubbio che ho avuto appena Anthony The Jackal è come è difficile entrare all'interno di un gruppo consolidato che già funziona bene quindi inserirsi non è facile e infatti la prova per entrare ufficialmente nei The Jackal è lavorare con loro e capire se c'è una sintonia ma Ciro proprio era quella persona che diceva dai dammi una mano tu che sei più esperta nei live perché se l'hai vista mezza cosa quindi dobbiamo presentare le universiati mi ricordo appena sono arrivata dacci una mano a scrivere e questo per me era un attestato di stima già fin troppo elevato per un secondo giorno insieme invece Fru ti volevo interpellare ti ho bisogno di stare tu o scherzi o sei terrorizzato cioè noto questo gran parte del tempo lo passo senza ascoltare ok buono anche io anche io se lo interrochi non hai capito niente cioè non veramente non sto a posto Fru veramente lo sto ascoltando sì un altro po' di Mirto che effetto fa te la rifaccio che effetto fa vedere i The Jagal e poi entrare a lavorare con i The Jagal però più sardo te lo devo chiedere sì che effetto fa vuoi fare l'imitazione Gianluca siamo attenti da dieci minuti hai massaggiato? è tipico? no vabbè è vero è difficile entrare in The Jagal anche perché poi li vedi guarda e poi soprattutto scopri che la The Jagal è un'azienda di amici che si conoscono da una vita e sono amici hanno fatto esperienze di vita insieme e poi arrivi tu che sei un estraneo fondamentalmente a questa famiglia entrare a far parte di una famiglia diventare parte di una famiglia acquisita è difficile in più mi sa il fatto che magari segui per tanti anni qualcuno sul web e poi non è facile andare al suo podcast e tipo ora io sono molto tremante ma tipo il livello di delusione che ti trasmetterò io in queste ore in cui ci conosciamo quello di The Jagal chiedevo quello non ridete c'è sempre di peggio mentre state ammazzando gli animali per vedere chi ascolta sto piangendo che poi tu pensi Ciro tutto a posto devo dire nessuno ha mai pianto la mia poca il mirto il mirto la distrutte non so se è il mirto o le loro parole però un po' mi stanno emozionando perché io ho seguito il loro ingresso in The Jagal con Fru in maniera molto più partecipe perché no poi lei racconterà la sua storia però in realtà Fru c'era Alfredo che mi mandava in continuazione io per molto tempo ho lavorato come casting director all'interno di The Jagal quindi faceva i casting di tutte le persone e gli attori che recitavano i nostri video e Alfredo mi mandava in continuazione i video di di Fru perché lui forse molti di voi non lo sanno ma aveva un canale YouTube dove provava e ci riusciva anche secondo me a fare dei video molto molto divertenti solo che non solo cagava esistono ancora questi video? li ho rimossi tutti perché li hai rimossi? sono bellissimi ho anche un'aneddota del perché ero scusa voglio finire fate come se foste al vostro podcast chi te è mirto? l'applauso chi te è mirto? ma come? e quindi avendo seguito le loro vicende con Fru in maniera molto più partecipativa ripetiamolo con Aurora non ci ricordava neanche il mio nome con Aurora nel senso con Aurora non la conoscevo prima che arrivassi l'ho notato ci sei informato nel momento però da quel giorno poi dopo l'ho conosciuto ho studiato ho fatto la stessa cosa che hai fatto tu lettere mi sono andata a studiato mi sono andata a studiare tutto il suo percorso e quando poi è arrivata ha cominciato a frequentare l'ufficio ogni giorno poi abbiamo collaborato sempre di più e ho visto sentire le loro parole mi ha emozionato perché poi aver vissuto il loro percorso all'interno di di The Jagal un po' mi ha fatto sentire vecchio e un po' mi hanno fatto piacere le loro parole perché sono li conosco sono ragazzi di cuore e delle bravissime persone su cui io veramente affiderei la mia vita totalmente anche l'azienda ti dico sì perché sono un dipendente anche io non è mia quindi va bene lo mio chiedere a Simone Simone è il capo Simone ti direbbe sì ti direbbe sì ok no forse no forse no ma no perché non si fida perché no no comunque da esterna quando i The Jagal ti dicono sì sì poi vieni facciamo un provino e tu pensi ma dove? cioè queste persone dove lavorano cosa fanno ah tu non avevi la percezione che fossero così strutturati? assolutamente no neanche tu? cioè pensavi fossero accendiamo la videocamera lol certo è un lavoro che comunque magari il set immagine che ci sia un regista ma l'ufficio cioè il cuore pulsante di The Jagal è l'ufficio che noi abbiamo a Napoli per scelta e l'ufficio di The Jagal è proprio una macchina creativa che si divide in sala autori sala produzione sala montaggio sala regia è ben organizzata ed è poi secondo me lo specchio dei video il nostro ufficio vedi che sei più brava tu nei live aveva ragione Ciro quando sei entrata ma voi avete già subito l'effetto del mirto mamma mia io appena l'ho guardato Ciro piange io stavo già per proporre il prossimo quindi ok guarda chita mirto proprio una delle cose che ricordate no ma ripetiamolo è piaciuto così tanto sono effetti dello sciroppo comunque di Anna della figlia di Ciro che lui ruba io in realtà vi faccio queste domande perché un po' allora devo dirvi prima questo lo dico a voi presenti a chi guarderà Ciro mi ha profondamente offeso io ho fatto finta di niente nel senso sì adesso ti faccio piangere di nuovo no scherzo non profondamente no scherzo nel senso che noi non ce l'avamo mai incontrati prima no anche se di fatto siamo due dinosauri dinosauri del web sì e io ho sempre guardato i Jackal come un fan no soprattutto all'inizio di YouTube i Jackal erano un po' un benchmark cioè erano un punto di riferimento quando qualcuno faceva le cose fighe erano i Jackal e sono di farlo piangere in tutti i modi e poi c'erano dei piccoli cuccioli ora se pensa a sta cosa diciamo non mi sto preoccupando no nel senso noi poi non ci siamo mai parlati non ci siamo mai conosciuti e quindi leggendo il libro e leggendo tutte le cose che vi avete fatto se poi tu le vuoi descrivere un minimo le vostre difficoltà che sono state tante ed è interessante io rivedo me cioè le difficoltà che adesso ho nel portare avanti il tutto farlo crescere portare nuovi talenti in un ambiente completamente diverso eccetera e poi quando Ciro mi ha detto ah sì ho conosciuto Breaking Italy due anni fa quando me l'ha detto Fru e quello che mi hai detto ha fatto ah ok io vi seguo da tipo dieci anni ma non c'è nessun problema perché tu con me cioè tu pensi che quando parlo io in realtà si ha tuttora da Jackal a parlare no sto scherzando lo so che anche gli altri da Jackal no 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 in realtà non è così quella era una mia mancanza qual era la domanda scusa no non c'era nessuna domanda stavo dicendo che avevate questo spazio nel secondo me ce l'avete tuttora nel senso che voi siete ci arriviamo siete un gruppo che piano piano è riuscito ad affermarsi anche al di fuori di Youtube cioè che sta facendo delle cose al di fuori di Youtube peraltro com'è stata questa cosa cioè passare da fare piccole piccole produzioni a farne sempre di più grandi a collaborare con tutti cioè tutti ma hai capito Ciro no capito ho capito scorsando no com'è stata c'è da dire che quando noi abbiamo iniziato in realtà veramente abbiamo iniziato per gioco non ci aspettavamo minimamente quello che sarebbe poi successo qualche anno dopo eravamo noi con la nostra voglia di voler raccontare storie e basta poi dopo chiaramente sono venute fuori delle opportunità e la possibilità di poter lavorare con molti altri professionisti adesso lucidamente ti direi è stato un percorso quasi naturale forse mi viene da dire un percorso sì naturale anche perché prima avevamo sempre covato il sogno di poter realizzare di poter fare queste cose partire dal web ed espanderci sempre di più verso nuovi media questo non significa che consideriamo adesso il web come qualcosa di vecchio si può dire partire dal web cioè ora l'intrattenimento di fatto è tutto mischiato non c'è secondo me un media ma in termini di in parte forse ancora possiamo dire che la televisione è il gigante dell'intrattenimento però però quando noi siamo partiti il web era quella opportunità per i giovani per potersi esprimere invece adesso veramente è tutto una cross medialità incredibile in questo senso sono d'accordo sul fatto che sia molto più grande sia molto più strutturato il web come piattaforma però io continuo a vedere uno scalone gigantesco che c'è tra il mondo del web e il mondo della tv voi siete probabilmente gli unici che saltano da una parte dall'altra cioè che comunque facendo le cose sul web fate Sanremo ancora no un attimo due anni e ci siamo e questo è un bacio della morte tutto finito è arrivato però siete un po' gli unici che hanno tutti questi camei di personaggi molto famosi perché per dire io sono in un ambiente diverso quello del giornalismo eccetera eccetera se io domani vado al correale e dico salve faccio questa roba qua lo sto dicendo alla porta che non è mai stata aperta e mi hanno tenuto fuori e stanno chiamando la sicurezza voi invece avete questa capacità di avere questa crossmedialità però voi non so se è il web che ha questo tipo di potenzialità come fate una domanda facile come lo porti Favino come lo rapisci Favino guarda è un video è un video è un video e sta succedendo ora andiamo a dire bugie abbiamo già rapito a casa ormai è legato ancora in realtà è successo anche legato a quello che ho appena detto cos'è adesso si può dire partire dal web arrivare in televisione secondo me ora si equivalgono un po' tutti tant'è che chi lavora in altri settori vuole andare anche sul web e fare anche altre cose chi fa i video vuole fare anche i podcast parlo di noi parlo di noi chi fa i video vuole fare i libri parlo di noi perché ora è tutto così per esempio Favino è un esempio di come collaboriamo con moltissime persone cioè persona che lavora da un'altra parte ma vuole essere anche sul web perché ora bisogna essere anche dalle altre parti cioè ora se fai un film hai anche un profilo Instagram se sei un politico purtroppo hai anche un profilo TikTok TikTok sono citazioni tutti su tutto sottili sottili bravo forse The Jackal ha un po' diciamo quella trasversalità che serve per essere cross-mediali nel senso che noi ci accorgiamo anche solo camminando per strada che i fan di The Jackal vanno dai bambini agli anziani questa cosa non me la sono mai spiegata Ciro piace tantissimo alle nonne cioè proprio è proprio una roba le gilf e a me piacciono cosa fa Ciro alle anziane bravo Ciro quando mi chiamo mia moglie e fa dove sei sto portando la spesa a Caterina tranquilla perché sa che Caterina è una signora a cui porto la spesa ma non dovrebbe non dovrebbe no perché secondo me questo sta ce lo non devi stare questo forse sta nel saper trattare temi universali sicuramente cioè nel senso che lo stesso Sanremo Sanremo è forse l'immagine del programma che va dai bambini agli anziani forse forse ma forse più gli anziani ho detto una cazzata scusate ho sbagliato però il Natale il video sul Natale il video sul Natale è come se trattasse tutte le fasce d'età o comunque i video dei The Jackal cioè esistono tante sfaccettature dei The Jackal e alcuni video più semplici magari possono piacere a un pubblico più bambino faccio un esempio quando cucini male ed è un meccanismo come tutti i bambini i bambini cucinano era per dire un video con un meccanismo semplice però forse la Roccaforte The Jackal resta sempre il pubblico trentenne nel senso che poi la rimpatriata del liceo tema trattato nel video quindi l'età in cui hai gli amici che iniziano a sfornare bambini altri che hanno tre lauree è forse quel periodo di vita in cui si trovano appunto i fondatori come questo bellissimo ragazzo che piace alle signore a tal proposito come si passa dal dal fare delle battute sul web per un pubblico che conosci molto bene è una cosa che ad esempio io ho nel senso ho un rapporto molto stretto col mio pubblico e so a chi sto parlando a fare le cose in televisione ad esempio dove parli a un pubblico molto diverso cosa cambia nella comunicazione delle battute perché non puoi dire sempre i tormentoni le stesse cose perché la gente non capisce le solite cose ma non lo so io credo che comunque alla fine il tono voice per usare un termine giovane questo l'ho capito tono voice il tono di voce resti comunque lo stesso alla fine noi siamo sempre stati così genuini o magari sul web ci permettiamo di essere un po' più ecco merda merda sì un po' più merda e in televisione ci adeguiamo un po' però alla fine voglio dire il nostro tono voice è sempre quello lì è sferzante ironico estrionico insomma in che modo vi adeguate un po'? Cioè cosa succede? Materialmente cosa vi dico? Questo o no? E cos'è questo? Secondo me è una delle regole della comicità la consapevolezza del fatto che ogni battuta può essere vissuta in un determinato modo in base al contesto in cui sei e alla persona che sei nel momento in cui ragazzi quindi merda wow no manco Peter Milton appunto hanno fatto l'applauso ma io non l'ho capita nel senso nemmeno io scusate chi ha applaudito può spiegarlo esatto adesso interroghiamo oh è morto è morto diciamo un altro non mangiatelo basta ci insegna Breaking Italy e non scherzo perché in verità gran parte delle cose intelligenti che io dico nella vita non dico come battuta vengono a Breaking Italy cioè se non fossi Breaking Italy io non farei la figura della persona così mediamente intelligente ci insegna Breaking Italy che è una battuta fatta da una certa persona in un determinato luogo tipo un politico su Twitter scusate quando sono sempre pensionari politici che fanno gaff viene vissuta in maniera diversa se vuoi fare i nomi e cognomi per me si vola no no non ho bevuto ancora abbastanza Mirto basta un altro viene vissuta in maniera diversa rispetto a una battuta magari fatta da un comico sul web o da un comico in televisione quindi noi abbiamo sempre questa consapevolezza o almeno io penso sempre a dove mi trovo e a cosa faccio in che modo le battute vengono vissute perché fa parte di una sorta di responsabilità che tu sai che ha il tuo megafono sociale cioè quello attraverso il quale parli nel momento in cui sai che arrivi a tante persone più persone sai di poter raggiungere più sai dover fare attenzione o dover fare un certo tipo di umorismo quello viene un po' dall'esperienza un po' anche ci sono stati dei momenti in cui ci sono stati degli scivoloni grossi in questo senso penso che te è mirto qui tipo dei grossi errori fatti in questo senso ma mia comunque che pezzo di merda hai che fa queste domande lo amo quando fa così lo amo fa il podcast con Fede e si fa perché ti odiano wow wow è un grande grazie grazie anche che ora ah sì quella volta che ho bestemmiato in Don Matteo oh no no io non lo so personalmente non me ne vengono tanti in mente ma io era una di Don Matteo era Don Matteo perché cioè Terence no ti dico siamo sempre stati molto attenti nel nostro modo di espirirci non me ne vengono gli scivoloni in mente a meno che tu non ne abbia scopato qualcuno no no a me ne vengono in mente no vabbè allora nel libro che io ho letto ieri quindi ce l'ho proprio freschissimo vabbè ma ah lì io l'ho letto un anno fa ma l'hai scritto le virgole le virgole però no vabbè citavate ma non è uno scivolone il fatto che a un certo punto avete dovuto cancellare un pezzettino di un video ricordami la famiglia di qualcuno si è arrabbiata ah Sergio Leone un a caso un a caso no quando facevamo ogni maledetto natale che era in realtà un brand content quindi un video commissionato da un brand che era proprio la produzione del film che si chiamava ogni maledetto natale che era una parodia del spieghiamolo per chi non l'ha visto magari perché in realtà è un'ora che ormai abbiamo prescontato molte cose abbiamo prescontato questa cosa era in realtà il natale visto dai vari registi registi italiani tra questi registi c'era Sergio Leone e con un suo classico spaghetti western la parodia di Sergio Leone non lui che girava sì beh è chiaro la parodia di Sergio Leone no lo dico perché non l'ha visto andatelo a vedere si chiama ogni maledetto natale e sono delle scene ambientate a natale viste secondo noi da vari registi come le avrebbero viste è uno dei miei video preferiti dei The Jackal uno di quei video che ho visto prima che entrassi da fan e Aurora fa leone di cognome ed è mio zio quindi se c'ero prima non è vero non è mio zio Sergio Leone non è vero per un attimo era credibile comunque c'è Ciro che fa la scena del Natale secondo Muccino ragazzi che ti prego Ciro sono lo so è un tipico Stefano tipico di Muccino bellissimo era una persona che urlava in questo momento poi se vedete il video è contestualizzato comunque impacchettiamo il video e facciamo questa scena di Sergio Leone come secondo noi avrebbe visto il Natale impacchettiamo il video lo mandiamo online e la cosa assurda è che tu sai all'epoca forse tu sei un dinosauro come me c'era questo bug di Youtube che a un certo punto quando il video esplodeva si bloccavano le visualizzazioni intorno ai 301 o 201 301 301 ecco quello fu il primo caso in cui quel 301 si sbloccò subitissimo perché rimaneva così tipo per 3-4 giorni prima di a un certo punto arriva oh cacolo ha fatto 100.000 visualizzazioni no si sbloccò quasi subito arriva tipo a 400.000 visualizzazioni insomma 500.000 ma veramente nel nel giro di pochissime ore e successe che ci chiamò la famiglia di Leone che ci disse no questo noi non autorizziamo il fatto perché c'erano dei cartelli in cui dicevano presentavano le scene quindi Paolo Sorrentino e c'era poi la scena Muccino e c'era la scena Sergio Leone noi non autorizziamo questa cosa di mettere il nome di Sergio Leone all'interno di questo video che poi tra l'altro è il contento quindi che cosa abbiamo fatto che cosa abbiamo dovuto fare con il panico immagino l'abbiamo dovuto abbattere e ricaricare scrivendo poi sopra il cartello invece di Sergio Leone spaghetti western quindi c'è Paolo Sorrentino Gabriele Muccino Vittorio De Sica spaghetti western ma avevamo perso una cosa come 500.000 visualizzazioni fatte in pochissime ore e infatti il video che vedrete adesso dovete aggiungere un più 500 non voglio fare tipo 34 sul campo 36 di scudetto quella roba là però sì sì è giusto è giusto quella roba là e invece il video peggiore che avete fatto questa non c'entra a niente mamma mia comunque è incredibile questo è solo per Aurora tu sei salvo a sto giro però visto che fai tanto quello era il più bello io prendo un altro misto prego dai tutti allora salute anche a casa non bevete vedo che stiamo entrando proprio in una seduta di psicoanalisi quindi non si possono consumare cibo e bevande cioè è giusto così io intanto penso al video vero io forse non dovrei per solidarietà posso? ho sentito un no per gli amici del podcast che ascoltano buona quest'acqua e bevilo bevilo è un attimo forse è il video peggiore ora che ho bevuto mi è bevuto lo voglio dire ora al terzo mi sto diciamo già che è una merda forse mo dice ogni imbaledetto natale ma con me ma non è il tuo preferito scusa grazie te lo vuoi bere madonna è il mio sciroppo lasciamelo bere come dio ma peggiore forse è quello di Ciro e Simone per chi è buono no non lo dire lo cerca non è sul nostro canale niente niente no vabbè dai c'erano Ciro e Simone ma poi c'è un brand una segretina scusa vabbè dai personalmente mi ha carezzato per tranquillizzarmi che non mi picchierà stanotte non è pazza come tutte le notti beh però fanno tutto da soli io potrei uscire in questo momento dobbiamo anche dire che quei video che hai menzionato poco fa di questo famosissimo brand con cui si ma cos'è un brutto video no no ma cosa succedeva in questo video no no c'era Ciro che era mister buon umore ok ma allora noi oltre a fare gli autori siamo anche dei si dice adesso talent in quell'occasione ci avevano chiamato solo ed esclusivamente come talent come attori di quel video non avevamo fatto noi la creatività e non era una cosa a cui non potevamo mettere mano quindi ci siamo ritrovati lì a fare questa cosa ovviamente eravamo stati ingaggiati come attori quindi abbiamo accettato insomma era ma non è che l'avvocato ok vado avanti abbiamo accettato e quindi abbiamo fatto questa cosa mo che a te non piace come se fosse un nostro video che avevo scritto ma infatti posso dire una cosa mi avete innanzitutto un'opinione personale sei liberissima di dirla e io non alzerai mai le mani su nessun essere umano indiscriminatamente è una mia opinione personale vedi il fatto che tu mi dica che la scrittura non è vostra testimonia ancora di più come io si attenta invece alla scrittura del giacal che molto spesso ha una qualità su di me qual è un video brutto secondo me un video brutto è un video in cui non riusciamo a dire bene quello che vorremmo dire perché nel nostro lavoro c'è questa esigenza o meno insomma tutte le creatività vengono da un'esigenza di espressione e noi ogni volta dobbiamo esprimere qualche disagio piccolo come questa canzone ci ha rotto il cazzo posso dire? sì 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 ah hai detto parolacce a qualora ho 30 anni e tutti i miei coetanei hanno dei figli cioè dei drammi un po' più esistenziali noi abbiamo questa te ne vintanno eh sì sì si vede eh dicevo dicevo viene asce da un'esigenza noi quindi abbiamo questo manco di fare le cose perché vogliamo fare vogliamo dire qualcosa quando non riusciamo come vorremmo anche che noi siamo molto perfezionisti nel nostro lavoro e molto esigenti con noi stessi perché noi viviamo quello strano paradosso della fortuna sfortuna del fare il lavoro che ami no? che ti porta a essere felicissimo del farlo ma a dannarti tutti i giorni perché di fatto non smetti mai di lavorare cioè non so se ti capita scusami se ti interrompo no figur improvvisamente cortesissimi volevo volevo rafforzare il tuo concetto cioè nel senso è una cosa che non per esempio nel mio caso è come se non smettessi mai di lavorare cioè torni a casa e ti porti sempre quella roba di mia moglie ma che stai pensando sto pensando al video ma sto io qua pensami fammi le coccole insomma secondo te come potrebbe essere ma mi ricordo che anche Alessandro una volta non ha fatto le coccole devo fare una pausa estiva perché io quando non lavoro a Breaking Italy io penso sempre a Breaking Italy sì questo è verissimo io sono da tanti tanti anni proprio tanti tipo applauso addirittura ti fa questo effetto ah ok non questo momento questo non è interesse sto ascoltando tutto no quello ovviamente ci sta anche io ed è dato al fatto che tu ami il tuo lavoro il fatto che lo ami ti porta anche un po' questa seria come la metti la metti ci stanno i problemi quindi voi credete alla frase fai il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno beh io a voi no a voi a voi che state costruendo questa torre di carte altissima voi voi ragazzi noi cioè io personalmente sì sì no sì ma perché perché sei adesso riteniamo perché sei giovane allora nel senso fare un lavoro che ami è importante è bello eccetera è comunque un lavoro certo nel senso il fatto di doverlo fare di doverlo fare con certi standard doverlo fare anche quando non hai voglia sì cioè non è sempre facile non viene come vuoi tu questa è la cosa che mi uccide ma non è come vuoi tu no anche perché gioco forza a volte devi anche è come vuoi tu sempre meglio stai impazzendo ora mi incazzo cazzo posso togliere il mirto da un altro non ne portate più no gioco forza a volte arrivi anche dicono quella che può sembrare una brutta parola ha dei compromessi cioè nel senso devi fare delle cose che magari gioco forza arrivi a dire la brutta parola ma fa culo questa sembra una brutta parola come cazzuola una parte interessante del vostro libro è quando lo spoilerò un pochino ma poco poco quindi poi si raccontano le crisi la parte più interessante è la crisi cioè il fatto che voi abbiate iniziato con grande entusiasmo a un certo punto però dovevate in qualche modo guadagnare da questa cosa sostenere le spese che avevate per fare tutte le cose che facevate e come questo si è arrivato molto difficile all'inizio e quindi abbiate dovuto iniziare a fare branded content però all'inizio non sei bravissimo a farlo certo c'è stato un momento nel quale vi siete resi conto che effettivamente eravate così bravi a fare contenuti vostri con la vostra voce che però includono dei brand così bravi voi siete molto bravi a fare questa roba allora Ciro sei molto bravo a fare questa roba grazie ma io sono il frutto del lavoro di tante altre persone no è una verità è un cyborg i genitori esatto allora quando abbiamo cominciato a fare branded content quando abbiamo cominciato a fare branded content ovviamente non sapevamo come si facessero ovviamente quindi abbiamo sempre cercato di fare quello che noi abbiamo sempre saputo fare ovvero raccontare delle storie che potessero reggere indipendentemente dal branded content ed era una cosa che c'è sempre riuscita bene cercavamo poi di mettercelo in qualche modo all'interno in modo tale da sposare i valori del brand ma non era mai invasivo da quel punto di vista in quel modo siamo riusciti a creare un modello della realizzazione di branded content un momento in cui forse ci sentivamo un po' viene da dire sicuri di poter di saper realizzare dei branded content è stata la prima volta che abbiamo fatto una campagna televisiva per un noto brand di formaggio abbiamo detto che india bisogna mettere tutti i brand non si può dire è più signorile è più carino un noto brand di formaggio giallo e verde che si mette in un pane con i buchi svizzero che non ha il caglio animale quindi anche i vegetariani lo possono mangiare queste sono cose che ho studiato quando abbiamo fatto il nostro tour ma vabbè non è questa la cosa e quando siamo andati lì venuti qui a Milano a fare delle delle riunioni per cercare di portare a casa il il branded content cioè in realtà lo spot televisivo che poi avremmo dovuto realizzare noi avevamo delle idee su come realizzarlo e c'era una una specie di scudo da parte dell'agenzia su come realizzare su cosa dire le battute che si dovevamo fare o che non dovevamo fare come se avessero loro un modello perfetto su come si facessero i branded content e quella quella situazione secondo me fu una delle primissime forse sì primissime situazioni in cui ci siamo sentiti veramente sicuri di come di come si faceva un branded content e ci siamo imposti da un certo punto di vista con l'agenzia nel cercare di cambiare la creatività seguendo poi quello che sarebbe stato il nostro tono of voice al cento per cento la seconda volta che dice tono of voice wow ma che vuol dire tono di voce proprio tono of voice e niente insomma e non è mai successo che vi abbiano detto però venduti basta basta sì c'è stata una fase in cui noi proprio avevamo la nostra comunità proprio che ci commentava i primi non tantissimissimi in verità solo che quando fai questo lavoro un commento negativo vale più di cento positivi ah sì perché poi prima io e Fru parlavamo dietro le quinte e tu mi dicevi che tu leggi tutti i commenti anche dei miei video ho letto in un commento di un tuo video che parlava di me sì vero wow io non ne leggo mai neanche uno per restare attaccato alla community dici per no non sono proprio ma non dirlo magari ci seguo li leggo tutti li leggo io non vi preoccupare non mi piace no ma lui è ossessivo cioè nel senso io li leggo lui è veramente ossessivo cioè lui che viene a guardare i commenti sotto al tuo profilo devi capire che stiamo parlando ma lui mi aveva annunciato che c'eravamo noi non è che sono pazzo no vabbè ho annunciato che c'eravamo noi e avevo letto i commenti in particolare ero uno che diceva secondo me Fru non ha proprio niente da dire dimostra che non è così non posso oh no sto dicendo solo cagare ho detto chi te è Mirto ma che speranze ho e io spero che questa persona sia qui perché hai ragione fratelli hai proprio ragione scusate mi autostima in questo periodo è molto pronto Fru non ti dire non ti abbattere ti prego è il Mirto è il Mirto in questo periodo infatti dici in questa oretta diciamo in questa oretta passata qua ok quindi è successa questa cosa sai che non me l'aspettavo perché voi siete veramente molto bravi oh che cosa scusa perché nel frattempo nel frattempo abbiamo un attimo perso Fru però lo diamo per andato andato ok no non mi aspettavo che ci fosse questo tipo di di risposta nei vostri conforti visto che siete così bravi a fare a fare questo tipo di contenuti perché alla fine i vostri video sono sempre i vostri video cioè il brand è quasi di contorno esatto è una specie di messaggio subliminale un ladro è caduto il micro ah scusa vieni ti prego non ci mi piace applauso affonico un ladro e quindi poi quando si va in tv è ancora lì cioè è andato via ma c'è un velo non svelare tutti i trucchi del mestiere stai rovinando la magia eccolo è lui comunque prendetelo no proprio quando ti attacchi sulle calzate no no ti prego per sempre Fru continua anche quando saremmo andati tutti lì quando ci hanno dato dei venduti eravamo lì no non ho capito un'inchiesta sembrava e parlavamo di questo vabbè innanzitutto quando esci dalla tua community secondo me ti esponi a un pubblico molto più vasto quindi non per forza fatto di fan devo dire che la community The Juggal è abbastanza omogenea cioè nel senso che i commenti sono al 99% positivi è proprio per questo che quell'1% risalta agli occhi di tutti soprattutto agli occhi di Fru che magari ha carino ma meglio quello prima questi sono i commenti ah e questo è devastante dici al The Juggal però comunque proprio perché questa minima parte possiamo permetterci di dire che è soprattutto la minoranza dei commenti rispetto a anche se all'inizio erano molto molto di più c'è stata una fase di passaggio perché in realtà ora i lavori brandizzati sono all'ordine del giorno cioè ora mia mamma ovviamente ha un codice sconto per comprare i fitti solo 10 esatto ok però come raccontare Ciro quando The Juggal ha iniziato a fare il branded content il branded content sul web stava nascendo era ancora embrionale diciamo in quella fase di transizione in cui ti trovavi le pubblicità nel video però che erano parte della narrativa del video perché questo è il branded content questa cosa ci ha un po' storcere il naso a chi guardava il video anche perché di fatto nessuno vuole vedere una pubblicità nessuno dice ora apro youtube e mi guardo una bella pubblicità mai quindi quando mi sentivi tradito oh mio dio questo video che mi sta piacendo moltissimo tipo col titolo e le thumbnail una cosa che non si fa ragazzi io non lo farei mai questo video che mi sta divertendo appassionando ha un brand al suo interno che non rovina la narrativa del video ma comunque per lo fatto ai principi che non mi piace e lo devo dire mi hai tradito e quella cosa capito vi siete venduti subito esatto scatta il vi siete venduti abbiamo avuto una fase così in cui ricordo la nostra un mese ci aveva un po' questa cosa tant'è che noi coronammo proprio questa cosa con una campagna pubblicitare che era un po' la parodia di questa cosa nel 2010 17 ok quella per quel noto supermercato carfulla sì carfulla ma che applauso sì carfulla no sì aperto 24 ore è giusto che i dipendenti dove si trovano i Kinder Bueno e il formaggio giallo che tutti conoscono che comunque non possiamo lovinare chi l'ha capito per l'azzata di mano che tipo di formaggio si tratta non è baby bad oddio forse lo potevo dire vabbè sono bri come sempre poi facendo autoironia su noi stessi poi abbiamo cercato di far capire questa cosa alla nostra community in realtà si dovevamo bisognava istruirla in questo senso perché abbiamo fatto capire loro che poi un certo tipo di prodotti in realtà in maniera del tutto autonoma sarebbero stati impossibili da produrre e da realizzare perché comunque all'interno c'è un effort di tanti professionisti al lavoro importante che quando non hai un brand alle spalle che ti supporta potrebbe essere difficile tradotto i soldi bravo effort sarebbe scusate ragazzi e quindi diciamo 99% bravissimi 1% cose che ti devastano quando invece avete fatto perché lo dico per chi non lo sa per chi non vi conoscesse vi sta conoscendo adesso quando invece avete fatto dei video che sono stati un pochino più impegnati io li ho apprezzati molto ad esempio questo lo dico io li avete fatti per Action Aid sì quindi in vari casi tu sei andato in Africa proprio ricordo io sono andato io e Fru vabbè c'è andato tu e c'era anche Fru una volta stai a ridere perché se sei in offesa ma tu purì come se io stavo facendo la comunione sì è una roba di Volosia in Ruanda che è quello che c'ho abbandita la mia comunione c'era il video c'eri tu che urlavi che era una roba che non succede normalmente tu che urli non è una cosa nei video? mai mai è la prima volta ok in cui facevate sensibilizzavate anche con un linguaggio aiutiamoli a casa loro ironico ironico certo oppure aveva fatto dei video sul benaltrismo quello è un altro dei miei preferiti lo dico sempre da esterna trattato in un episodio di Breaking Italy davvero? in un episodio di Breaking Italy c'è in banca che si ricorda che lo guardo io non sto nemmeno Ale se lo ricorda guarda c'ho pure il messaggio che ti avevo mandato quando l'avevo messo in tuo video sì sì qui non ha neanche in solità allora io devo ammettere che mentre Ciro non mi conosceva fino a 5 minuti fa gli hanno detto non è vero fino a 2 anni non è vero è passata almeno un'ora 5 febbraio sì è vero ormai sì 5 febbraio 2019 sappi che essere su Breaking Italy è uno dei più grandi traguardi della mia vita sono parte della gentaglia da tanti anni ne sono davvero onorato manco una visuale dai che bello ti ha proprio ha risposto a questo messaggio il 26 maggio del 2021 grazie fruo ho trovato ho scritto un'altra cosa ho trovato anche questi messaggi questi messaggi il 2019 grazie mille davvero io d'altro non solo avevo detto ma avevo anche fatto una storia in cui dicevo Shai ah no no qua era quando Shai trattava il caso di Bibiano nel 2019 ma perché io sono boomer cioè io non guardo i messaggi non sono in grado quando io ho scoperto la cartella lo scrivete esatto è un mondo quanti pallini blu che ci stanno questa cosa sembra assurda io a un certo punto ho fatto ma chi è sto fruo è simpatico mi fa ridere l'ho seguito e mi sono arrivato un sacco di notifiche tue tatatatata degli anni bello io mi sono sentito beh mi è stato piacere a me no non ha risposto e soprattutto uniamoci a quanti di voi non ha risposto a me a me capisci che non l'ha fatto apposta ti ha conosciuto è chiaro a una certa età non è in grado di usare il mezzo di buttare giù così Alessandro no io ormai uso questa tecnica perdonerò sempre come quando il tuo gatto ti graffi e tu lo perdoni comunque che bellissimo no io ormai uso questa tecnica per ogni cosa sono vecchio non so fatelo voi tu lo fai con loro non sono capace dai fatelo voi anche le cose basilari fai il caffè non so la macchinetta come no no quella del caffè però io mi ricordo che quando venne Fru vuoi citare dei brand di caffè borbole borbole attualmente non dovevo dire sono mirto non ce ne so due bicchieri ma infatti se volete dovete solo fare un gesto va perché penso qual è il gesto è molto fai è la verticale una ruota sulla prima fila il gesto il saluto romano oh no lo volete fare? così poi sei un brachista no ma che è prima mi fa ridere questo cretino sto dicendo crotinato no comunque prima ho detto la parte romantica nel senso sono dei bravi ragazzi ci stai ripensando no no noi ci stai ripensando in realtà loro sono venuti perché effettivamente noi eravamo ben conscienti del fatto che stavamo diventando vecchi Fru per esempio è venuto perché noi non riuscivamo a capire Snapchat ok quindi quando è venuto abbiamo detto sì no fai lo stage con noi però in realtà volevamo essere spiegati i Snapchat essere spiegati una volta spiegati potremmo essere anche no poi come succede ce lo impari Fru poi ci siamo affezionati la puntata peggiore del podcast di Alessandro questa non la mette su Youtube volevamo essere spiegati volevamo essere cioè volevamo che ci spiegassi scusate lo sa lo sa lo sa lo sa lo sa scusate ragazzi soffro dopo due mirto soffro un po' di congiuntivite due mirto non ho mai bevuto questo questo singolare al plurale due bicchieri di mirto come due dita lo faccio di parlare l'avete fatto? l'avete fatto sti video ti ricordi che stavo facendo la domanda prima tipo mezzalasso di roba action aid lì è stato peggio? la reazione della community non ce la fa ridete non ridete ma che cos'è questa puntata? no ma poi vedete questa puntata prima di questa ti giuro che non ho scontato grazie allora rispondo io perché applaudisce? ma secondo me sono già ubriachi loro che applaudisano stavo facendo un lavorone perché se noi tagliassimo Ciro sta piangendo e non è normale credo che Alessandro si riferisse al fatto di prendere una posizione anche politica esatto falla tu la domanda si si no io c'è seguiti qua dai seguiti qua non è per qualcosa c'è stato un momento in cui ho avuto un blackout tu parlavi ma il mio cervello non captava chi te è mirto? il mio nuovo claim sono io allora avri Aurora secondo te questa cosa è stata meglio o peggio per la vostra community? cioè esporci? esporvi allora io personalmente da Aurora l'ho trovata positiva anche se non ero presente in quei video giusto ad esempio mi piace andare in Africa per te che ci sei andato si com'è stato? Uffata me lo chiedi sempre Aurora ma ci sono scritte delle cose terribili Ciro ma tu parlo molto il podcast no tutto intero mamma mia figura a me questo change mi manda i matti torniamo torniamo applauso applauso bravissima bravissima no comunque no seriamente seriamente è difficile anche perché ti ho detto noi siamo sempre consci di questo nostro megafono sociale quando parli sai che parli a tantissime persone l'attenzione l'abbiamo inquiettato è come un'amicizia ormai siamo amici tra di noi tanto chi lo vedrà mai questo video chiaro per ridere però è anche vero che noi ci siamo sempre in realtà esposti su certi temi di si sociali sociali prendo le redini di questo discorso devo dire che secondo me anche lì diciamo le critiche sono state poche perché la community The Jackal secondo me esposa la causa The Jackal nel senso che se non la esponi come? nel senso Breaking Italy adesso faccio l'esempio perché chiaramente ha un pubblico che per seguire le tue cose deve essere fatto in un certo modo e secondo me vale lo stesso per The Jackal poi è ovvio che determinati argomenti possono dividere o altro però mi ricordo un commento sotto un video Action Aid pensate il titolo era The Jackal aiutiamoli a casa loro cioè un titolo forte e c'era un commento che diceva è incredibile come questo video possa piacere sia a quelli di destra che a quelli di sinistra sì è vero perché il video The Jackal una delle cose che mi piace di più dei video The Jackal è che comunque fa molto leva anche sul non detto cioè chiaramente all'interno del video questo aiutiamoli a casa loro vedetelo era ironico cioè nel senso c'è Ciro che sta facendo uno spot e poi a un certo punto è come se si uscisse dalla finzione e si vede il fonico il truccatore cioè come se Ciro appunto stesse dicendo si dichiarava un po' esatto queste cose proprio perché erano le cose che la gente si voleva sentir dire però allo stesso tempo Ciro quelle cose le diceva quindi secondo me a seconda di come sei fatto ti arriva quel tipo di video e secondo me il pubblico The Jackal cioè quelli che hanno le sfumature The Jackal e faccio l'esempio con te perché secondo me hai un determinato pubblico come questo in sala che coglie determinate sfumature stupendo che appunto riusciva a vedere quello che era il sottotesto del video ma è possibile che qualcuno non abbia neanche visto il sottotesto e abbia detto bravi The Jackal voi sì che dite le cose giuste nel modo giusto sfruttando i trend anche perché poi questo tema l'avete affrontato anche con Fede quando è venuto qua è più comodo non esporsi certo certo quindi noi sapendo della responsabilità che abbiamo sappiamo di doverlo fare alcune volte in certi casi però è molto difficile quando sai che devi arrivare a tante persone ma lo immagino sei preso un po' da una responsabilità di veicolare dei giusti messaggi quando parli a tantissime persone quindi certo è che ovviamente il giusto messaggio magari lo è per te ma non lo è per altri questo io lo dico perché noi facciamo lavori molto diversi e io so di essere sempre molto controverso quando dico delle cose io ogni volta che faccio un video faccio incazza a qualcuno certo è proprio automatico secondo me ci dobbiamo mettere l'anima in pace che è inevitabile sì ma c'è anche questa cosa in continuazione sì non potranno mai essere tutti d'accordo questo secondo me è un principio fondamentale da cui partire si arrabbierà sempre qualcuno infatti motivo per cui è uno dei miei video preferiti benaltrismo video di The Jackal tratta proprio di questo parli di una cosa anche importante inizia un video che tratta su l'immigrazione poi c'è sempre ma non parli anche di quest'altra problematica quindi qual è il punto del video se dovessimo parlare di tutto tutto insieme si parla di niente creeresti solo casino e alla fine non ti concentri mai su niente non porti mai a termine niente quindi un video del genere si poteva fare in televisione si sarebbe potuto fare in televisione forse in qualche programma così nel quale denunci il benaltrismo ad esempio dici se devo parlare di questo devo parlare anche di quella minoranza in determinati programmi in determinati programmi in salotti politici forse non è il classico spot che vedresti di sensibilizzazione così che ti parte all'improvviso in modo del tutto decontestualizzato dici che non funzionerebbe in televisione una cosa del genere è una domanda sarebbe necessaria forse perché siamo legati ancora ad un concetto vecchio di televisione nel senso a viverlo in modo del tutto passivo su internet forse sei più abituato a capitare ma anche se ti capita un video tra i consigliati su youtube ti capita te lo guardi ok lo accetti in televisione forse essendo tutto un po' troppo la vivi in maniera molto molto passiva quindi hai bisogno di contestualizzare le cose che vedi forse così se appare all'improvviso uno spot del genere ti fa strano un po' magari contestualizzato in un programma di tipo politico probabilmente potrebbe perché è difficile però in base sempre al concetto a più persone parli più è difficile parlare quando vai in televisione è ancora più difficile perché allora se fai un video in cui dici che non si deve spostare attenzione su altri problemi quando si parla di alcuni problemi allora sto dicendo che è sbagliato avere un pensiero diverso da quello che sto cercando di dire quando parli a tante persone puoi dire che è sbagliato un modo di pensare quindi non sarebbe facile chiaramente dal nostro punto di vista sarebbe giusto ma anche che video abbiamo fatto noi e quindi è chiaro che pensiamo che sia giusto farlo ok quindi è proprio una questione di diversità del pubblico più che del mezzo secondo me sì sono i vecchi il problema sì siamo noi vecchi siamo noi vecchi certo giustamente probabilmente il giorno in cui arriveranno spot del genere in televisione significa che il pubblico sarà completamente cambiato da questo punto di vista che è un ibrido tra il pubblico della televisione e il pubblico di internet di oggi quindi probabilmente potrebbe succedere una roba del genere in futuro e questa è una questione che riguarda anche la comicità in Italia mamma mia la comicità sto studiando da qua a qua in che senso è una cosa che potrebbe cambiare cioè questo dici c'è una cosa che cioè la comicità a piccoli passi allora ok a piccoli passi la comicità mainstream in Italia esatto cioè i grossi comici italiani che è il vostro comico italiano preferito italiano? sì boh mi verrebbe da dire zalone zalone? sì ok oh wow eh caspita tanti grazie amore guzzanti ok ce ne sono anche che stimate meno immagino sì volete fare i nomi? no ok fru vuoi rispondere a questa domanda? spesso la bloccata quella di prima ragazzi secondo me come un altro Mirto lo dice che sì vabbè dai zalone dai fai il saluto romano ciao è questo? è l'unico che conosco è questa la comicità che ci piace è strutturata forse qualche stand up no vabbè comici italiani a parte gli storici quindi per di te non so un corrado guzzanti vado indietro Anna Magnani ma anche attuali per esempio sono una grande fan di Paola Cortellesi Luciana Letizetto tanti tanti veramente quelli che non stimo non li dico ma non li dici ma in generale già insomma però non ti preoccupare ti butta dentro col fatto se può cambiare la comicità in Italia come è cambiata esatto anticipa le mie domande ti anticipa la cosa più cattiva che puoi dire secondo me e non perché l'hanno fatto i miei due compagni di viaggio però sicuramente un tassello importante per la nuova comicità è stato messo da LOL cioè LOL LOL il programma LOL che sicuramente che da chi è stato vinto ti ricordo uno dei due allora se lo vedi al contrario non so come ho fatto allora quell'attacco quell'attacco di riderola di qui sopra in realtà è tutta una conseguenza del fatto che dopo LOL io non sono esatto non sono più riuscito a trattenermi da niente quindi mi chiedo scuse però comunque è un esperimento di mettere nuovi comici da nuovi panorami che siano social stand up comedy in un programma che ha una grande visibilità cosa che secondo me non succedeva da tanto tempo nuovi comici come Elio Lillo Teenager però per dire no alla fine quando pensiamo ai programmi comici italiani siamo ancora ancorati a mai dire Gol Zelig magari nei tempi d'oro cioè nel senso mancava forse alla tv un programma o appunto una piattaforma in cui ci fosse un programma con dei nuovi comici con un nuovo tipo di comicità e secondo me è un esperimento riuscitissimo non italiano però comunque come è riuscito in Italia ha dato visibilità a nuovi generi a nuovi tipi di comicità però perché ha funzionato se ci pensi perché in realtà non entra nello schema canonico di un programma televisivo LOL in realtà LOL a un certo punto parte con la promessa di un programma televisivo ma di fatto è un gruppo di amici che cerca di farsi ridere cioè cerca di far ridere l'altra persona in modo del tutto spontaneo anche in modo stupido cretino senza la premessa di una battuta brillante o di una battuta che fa veramente tanto tanto ridere chi è sta voce scusate ho sentito io una voce sì no uno 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 del programma era fru no va avanti no no vai avanti sto organizzando una cosa un certo punto salta fuori non so Pio e Amedeo saltano fuori un certo punto adesso che fanno il saluto romano ma che applaudite che applaudite dicendo si può fare ora si può fare facciamolo quindi si può fare si può fare tutto facciamolo io vedo la nostra PM Meliss nel pubblico la persona che è qui per accertarsi che noi non diciamo cose che non dovremmo dire sta strappando dei fogli stiamo andando bene no io vi dico verità da quando cioè dopo questo che è il terzo anno di pandemia basta sono arrivato in una fase proprio di rifiuto della società e dell'umanità cioè ora voglio farmi dei nemici nel senso che ci voglio andare a letto calmati l'uomo ricomincia ma questo è che vai vai avessi fatto queste battute a lolle non ho avuto grande occasione in secondi comunque io puntavo dato l'after show di LOL l'abbiamo fatto qua io puntavo un po' su Fru dai Fru andrà avanti io ci ho puntato io dall'inizio e poi io mi sono distrato vado un attimo da bere in cucina finito era già pure la stessa cosa io non so che cosa dal frigorifero al riso come un cretino al riso da solo ok è bene sì però mi conoscete sono un tipo molto serio non so cosa possiamo continuare a glissare a dribblare questa domanda all'infinito ma prima o poi mi rispondi qual è la domanda chi odiamo chi odiamo chi odiamo ma vai sì la domanda era proprio questa no guarda ma dai l'avevamo superata te la sei riposata no no l'ho detto voglio farmi dei nemici sono tutto più no no in verità no non mi vengono dei nomi ora in mente buuu esatto aurora diglielo chi odiata hai detto farci dei nemici la mia vita è piena di amore io amo tutti non posso odiare nessuno bello bello allora diciamo cose difficili allora hai citato la stand up comedy perché si dice che le donne non fanno ridere nella stand up comedy mamma mia ma qualche cosa cioè ho un pugnale perché si dice perché si dice cioè in generale in generale c'è questa cosa ah sì dai no non c'è un po' questa cosa ma me lo amo ragazzi appunto io dato che ci provo ditelo voi perché cioè io ci credo esiste questo problema cioè a te l'hanno detta questa roba da stand up comedian quale tu sei che non faccio ridere sì ma vabbè non fai ridere ok no 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 me l'hanno detta ma loro no loro ridono dai la faccio più seria la domanda no 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 la senza femminile nel mondo della comicità è vero è vero è vero ma è una domanda veramente difficile ho paura di inerficarmi no è difficile spiegare perché perché boh forse è una questione di retaggio ne parliamo non lo so non ho una risposta a questa domanda forse è una questione di retaggio cioè forse la tradizione vuole che il comico probabilmente la maggior parte dei comici nella tradizione fossero stati uomini forse l'ironia puntava proprio sulla donna no faccio un esempio di chiaramente ironia old school no su sulle donne sull'uomo inteso come come uomo old school insomma poi chiaramente non sono la comicità chiaramente penso al no no esatto proprio nella società parlo di questo poi forse è questo nel senso che è ancora una fase in cui ci stiamo contaminando si stanno ampliando vari panorami vari tipi di comicità personalmente ci sono tante donne che mi fanno ridere e e forse quello che stanno portando le donne all'interno della comicità è proprio un altro punto di vista faccio un esempio proprio personale io sono entrata nei The Jackal il primo video che ho fatto è stato sul ciclo cioè loro avevano bisogno proprio di un altro punto di vista su un altro argomento che forse almeno credo loro non avrebbero potuto trattare anche se Ciro lo vede proprio emotivamente instabile stasera no 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 non lo so senza le donne nei settori tipo quel caso di quella polemica di cui posso parlare solo perché ho visto Breaking Italy che ne ha parlato tipo la propaganda propaganda live ricordate sì che c'è qualche problema però secondo me esatto la cosa però bella secondo me di questi tempi è che ora stiamo iniziando però a porci questa domanda cioè tu ora fai questa domanda magari in questo podcast nell'universo parallelo di Spider-Man No Way Home in cui è una domanda che non faresti mai però io non la vivo questa cosa non so te cioè nel senso questa non si faceva questa domanda ora come ora nel nostro universo far la domanda a me è un po' sbagliato nel senso che a me non piace niente non mi fa ridere niente mi piacciono poche cose quindi anche nella stand-up comedy io ho tipo due persone che mi fanno ridere che sono oh no sono Louis C.K ok con tutti i problemi annessi e connessi of course Ricky Gervais va bene va bene cioè comunque siamo sui classiconi ma sai perché perché a me fanno ecco forse questa potrebbe essere un po' la risposta mi faccio le domande e poi mi do le risposte parliamone perché è difficile dare una risposta tu fai così così l'ora passa e noi non rispondiamo tu domanda e rispondi la stand-up comedy ora non so se a te piace ad esempio non conosco tutta la scena ovviamente però lì sì che Ricky Gervais li conosco li seguo e mi piace ce ne sono anche alcuni per me Afterlife di Ricky Gervais è proprio l'esempio di una delle mie serie preferite in cui si mischiano comico e drammatico in modo naturale che è un po' personalmente la mia ambizione cioè nel senso a me piace molto motivo per cui mi piacciono anche questo tipo di video di The Juggal in cui parlavamo prima quando la comicità si abbina a qualcosa di molto serio nel caso di Ricky Gervais può parlare anche del tema della morte d'essere cinico e ironico e simpatico ma perché io quello che trovo molto interessante della stand-up comedy è quando si toccano argomenti che sono normalmente un po' tabù e poi che in un certo senso in un certo modo ti riguardano nel senso che tutti quanti abbiamo poi dentro un aspetto d'ombra un aspetto che non ci piace magari e il fatto che si possa scherzare su certi pensieri orrendi su certe cose che magari ti passano per la testa non lo so lo trovo un pochino a parte che lo trovo divertente lo trovo quasi tranquillizzante quindi è magari la questione un po' lì una cosa che magari tra amici fai anche nel senso di tirare fuori la parte più oscura di te e riderne però ti senti in imbarazzo nel dirla palesemente in pubblico Ricky Gervais invece ha quella forza lì di dirlo tranquillamente in pubblico quello che probabilmente direbbe tra amici e familiari ridendone e scherzando su qualcosa anche di veramente molto molto black su cui non scherzerai ma che cosa ti dicevo prima della consapevolezza del linguaggio di chi e dove fai dove viene fatta una battuta beh però Ricky Gervais sarà fatto pure alla presentazione dei Golden Globes perché Ricky Gervais cioè perché lui certo ma diciamo magari anche è una questione di tematiche nel senso più le tue tematiche sono vicine al pubblico che ti ascolta più è facile che tu abbia successo se io adesso mi metto a dire fare le battute sulle difficoltà di essere youtuber magari mi capiscono gli youtuber però tutti gli altri no quindi non so se sia anche un discorso di chi guarda cioè se il pubblico principalmente maschile magari non è così che guarda gli stand up comedian si ritrova nello stand up comedian maschile la stessa cosa magari non accade nel pubblico maschile che guarda una donna che fa stand up comedy ti sto tirando in mezzo in una cosa difficilissima dipende nel senso c'è esiste no no infatti poi solo a me perché giustamente questi due sono ubriachi non hanno più alcuni sempre lui dipende dipende dagli argomenti così come io magari posso guardare una stand up comedy di un uomo in determinate cose non immedesimarmi ma riderne perché riesce a raccontarla in un modo tale da risultare universale così vale per la donna è ovvio che se una donna va a parlare che ne so della depilazione intima femminile l'uomo va in difficoltà perché non può immaginare i passi di yoga che si fanno dei persi proprio degli occhi bianchi sono andati io no ma sto facendo un discorso nella mia testa molto intelligente ma ho paura di farlo però allo stesso tempo secondo me esistono dei temi universali cioè faccio un esempio io a Italia's Got Talent ho parlato dell'università non ricordo ho parlato dell'università e delle facoltà universitarie quello è un tema universale cioè in quel caso il mio pubblico era omogeneo e Ciro ha riso pur non avendo fatto l'università avendolo visto nel giorno in cui è arrivata Aurora però conoscevo molto bene i profili no esatto perché poi non per forza cioè secondo me ridi di più di quello che conosci io su questo sono assolutamente no non sono sicura però lo volevo dire sembrava sembrava figo sono assolutamente sicura cioè secondo me ridi di più di quello che conosci però allo stesso tempo però ridi anche di più di quello che riconosci nel senso anche se non lo vivi personalmente l'hai visto che è successo ma chi ogni volta che vengono ogni volta che parlo voglio dire qualcosa vengono frutti no ma è un discorso lei va dritta capito anche se c'è lui che fa lo sottofondo tipo rapper se dovessi fermarmi a ogni sua distrazione forse perché lei smette di parlare nel momento in cui io parlo e io sento frutti faccio caso e mi giro nel senso ridi anche di quello che riconosci non solo di quello che conosci tu personalmente cioè ci sono delle dinamiche che magari non ti in cui non ti senti tirato in ballo in primo piano però riconosci che magari viene fatta dalla tua fidanzata tua madre tua zia e riconosci quella dinamica lì e ne ridi lo stesso sì quello secondo me un comico bravo è anche un comico che ti fa immaginare qualcosa e ti fa ridere di quello ho visto tanti sketch da comici storici faccio l'esempio Battista comico romano sul matrimonio non sono sposata ma mi fa ridere perché ho un'immagine del matrimonio e lui ne riesce a ricalcare i tratti caratteristici e esasperarli quindi forse la bravura sta in quello a saper trattare un argomento in maniera universale secondo me non è che le donne nella stand up comedy nella comicità in generale non funzionano non fanno ridere che sono semplicemente meno ma sono sempre di più questa è la cosa importante in questi tempi in tante cose come dice Shai sono appena iniziate le battaglie sociali della rivendicazione dell'identità delle minoranze dice così? no no è vero dice lui grazie grazie in realtà tu potresti dire qualsiasi cosa e lo dettaglio io non mi ricordo ho tanti testimoni la dice lui? ma tu stavi pensando alla sua citazione in modo tu studiare no no io quando ho detto già prima se devo dire qualcosa di molto intelligente penso come ha detto Shai questa cosa? è un problema quando sono da altri faccio un figurone non so la Shai è una figura di merda è da lui poi io nel senso a me la Cortellesi fa ridere ad esempio certo poi esistono anche diversi tipi di comicità una comicità più di pancia che può essere l'imitazione il personaggio un'altra che invece non so se ricordate il monologo di Paola Cortellesi ai David di Donatello quello sulle donne su una parola non scrivi e non lo ricordo e da voi mi dice no tu ti sei fermata in Italia e quindi non è che parla un portigiano è una cortigiana non è scritto da lei ma insomma l'ha interpretato lei l'ha per esempio e magari non è una comicità cioè magari in quel caso può essere più di nicchia perché appunto c'è sempre quel fattore che si mischiano comico e serio però per esempio ecco anche in quel caso quella è una dinamica che io riconosco quindi mi fa ridere donna uomo ok no nel senso cioè quello di cui parlava hai capito io sono scemo allora a tal proposito in realtà non c'entra niente però dico a tal proposito per unire le cose perché c'è una domanda che arriva da un vostro conterraneo Antonio Esposito non l'avrei che non me lo sono inventato nel senso non è che mi sto inventando i nomi sono davvero arrivate le domande sono davvero arrivate le domande Tony Esposito è il mio cognato oh no di accello sta roba no praticamente da dove vengono queste domande dal club? da dove vengono queste domande? dal club al quale tu non sei iscritto non sono iscritto al club scusate molto male buh vero me lo merito me lo merito è giusto ma che parlo di ma che cosa è questo? sì sì non è iscritto disiscriviamoci mai la domanda l'ho trovata interessante era lunghissima quindi l'ho un po' l'ho fatto il riassunto perché lui insegna teoria della comunicazione a Napoli credo e chiede se voi avete il problema troisi cioè se le persone ridono allora lui dice per il paraverbale napoletano piuttosto che per la componente verbale che immagino significhi fareste ridere allo stesso modo se non ci fosse quell'elemento di napoletaneità questa poi la velocizziamo sinceramente poi dico la mia eh mamma mia ma io su ogni domanda vorrei scrivere un libro però a casa non qua devo rispondere in due minuti forse proprio perché c'è questa forza dal dalla figura di di un grande come Troisi mi sentirei di dire di di no non so se faremmo ridere allo stesso modo sinceramente cioè se non fossimo napoletani scusami simpatizzo se non fosse napoletani se non ci fosse se non parlassimo c'è da dire che comunque il napoletano per noi è è un colore eh i nostri video mi sento di dire che funzionerebbero tranquillamente anche se non parlassimo in napoletano forse la nostra lingua in qualche modo ci dà una sicurezza anche un un qui di più una verità in più in questo senso e tra l'altro da 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 pochissimo anzi da un bel po' di tempo no no anzi da sempre da sempre no perché sempre senza non saremmo la stessa cosa no all'inizio i nostri video funzionerebbero anche se fossero in napoletano sta costruendo da pochissimo tempo no io vengo da un periodo parla e risponde subito no come noi io so tre ore quale penso datti nel tu sono andato in confusione perché io vengo ovviamente da un periodo storico in cui loro non c'erano e mi ricordo che all'inizio per esempio noi non dico che non usavamo molto il napoletano nei nostri primi video anzi usavamo essendo sempre stati grandissimi fan dei film americani delle pellicole americane quello che noi tipicamente chiamiamo il doppiagese quindi usavamo questo linguaggio anche molto forzato poi nell'ultimo periodo tipo com'è il doppiagese ehi amico tutta questa roba là oppure fake trailer recitati in inglese e poi doppiati in italiano non so se qualcuno di voi si ricorda Van Dammo la famosa scena di Alfredo lo ricordate? sì Van Dammo contro 2012 e diceva come può un essere umano combattere contro un anno perché il 2012 era l'anno in cui sarebbe dovuta spingere la terra Van Dammo un giro che picciava il 2012 picciava il 2012 no però per dirti che io vengo da un periodo in cui 30 anni fa non ero non parlavamo molto il napoletano non ci esprimevamo con la nostra lingua esatto non faceva parte del nostro lessico poi ad un certo punto complice anche i video degli effetti di Gomorra abbiamo ricercato un po' di più quella verità che prima ci non dico che ci mancava però la nostra era una ricerca un po' più cartoon da un certo punto di vista forse perché eravamo anche un po' più piccolini immaturi non cercavamo una verità ma piuttosto un effetto speciale o un'imitazione che facesse strabuzzare gli occhi alle persone però in realtà poi col tempo crescendo abbiamo ricercato dentro di noi una verità di tipo anche linguistico e in questo il napoletano c'è stato la nostra lingua è venuto fuori molto naturale anche io questa cosa riesco un po' a empatizzarla lo sai perché ovviamente io non mi metto a parlare di news non è il caso che io mi metta a utilizzare dei termini già io ho una parlata strana e quindi già che uno riesce a capire quello che dico siamo al top quindi cerco di evitare però ti capisce tu mi capisci siete sicuri perché ok però inizialmente anche io avevo questa tendenza un po' quasi a nascondere la mia appartenenza territoriale come se perché non lo so forse anche in una prima fase cercavo di occultarla un po' di più secondo me è come quando vai all'estero che all'inizio cerchi di nasconderti poi conosci persone della tua comunità e inizi a parlare la tua lingua no credo c'è una questione proprio di identità ma per me è stato il contrario all'estero no che ne so vai a Palma de Mallorca no tu sardo io sardo tu sardo vai a Palma de Mallorca appena vieni fai buongiorno 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 dove è la stanza del mio alloggio in questo hotel ok e magari quella della reception e quella della 206 e io dico no ma è un discorso bravissima bravissima cioè tradotto quando birto e sciroppo e questa roba qui è finita ne ne ha mai più quando hai la risposta mi è piaciuto molto no no tu puoi quando hai la risposta dalla tua comunità probabilmente ne vorrei un altro se la richiesta non fosse poi raggiungi lo step successivo ovvero quello di parlare tranquillamente con il tuo accento sardo anche con persone che non sono sarde si può avere era così facile tranquillo c'è uno là che ci parla è finito raggiungi lo step successivo quello di parlare nel nostro caso io parlo in napoletano con l'accento napoletano anche con milanesi romani da quel punto di vista sento di essere maturato dal punto di vista dell'identità proprio ed è una cosa che non mi fa più alcuna specie da questo punto di vista anzi trovo che sia bello proprio devi assumere consapevolezza dei tuoi mezzi poi la forza di Massimo Troisi era napoletano quasi balbettato più che parlato che faceva ridere proprio per questo faceva ridere anche a chi non necessariamente doveva comprendere tutto io non l'ho mai visto non hai mai visto Massimo Troisi mai un film? no no allora io non ho mai visto niente nel senso io non ho mai visto Totò ma i video di The Jogal li hai visti? i video di The Jogal li ho visti tipo 5 minuti no no li ho visti tutti ieri ha letto il libro e ha visto i video è stato tutto assieme fammi vedere chi sono questi però io non ho mai visto questo proprio sono confessioni un film di Verdone io non ho mai visto ok io sono io ho grosse lacune ma fatti nemica tutta l'Italia vai vabbè siete solo voi non ho capito in Toscana chi c'è? io sono di questo team qua ho visto Il Ciclone sì sono di questo team qua siamo solo la stessa bar io sono una grande però tu sei un attore come funziona sta roba? io posso fregare ma io attore lo sto diventando io il primo film l'ho girato in 2021 ah dici quindi però aspetta dipende poi sono attore in The Jogal sono attore in The Jogal e non è per niente diverso dall'esserlo in altre media in altre cose magari cambia solo lo fai per più tempo devi mantenere un personaggio per più tempo però le prime esperienze attoriali le sto facendo le ho fatte quest'anno credo ah vieni vieni sì sì no potete pure mentre parlavo grazie allora c'è da fare una premessa prima Ale ci ha detto ragazzi al primo shot di Mirto siamo tranquilli al secondo ci sciogliamo alla grande dopo il terzo non so cosa possa succedere figurati figurati io non so ma a che ora venite dovete andare? sulle dieci e mezza eh sulle dieci e mezza ci abbiamo ancora tempo? quasi basta saluti al parcheggio più bello dillo in sardo di soldi non come quello delle vecchie puntate posso fare una domanda posso fare una domanda io a te Ale ma l'hai già bevuto? sì grazie ah beh era un sorso non è che era un litro ma tu hai già fatto? ma guarda ma proprio spirito dell'amicizia abbiamo brindato i nazati ok prego no mi chiedevo ma tu sei contento di come stiamo rispondendo in generale dico oppure stiamo facendo una grande è un dubbio che c'è da qualche minuto no sta andando alla grande ah ok sicuro voi siete d'accordo no? ok lui non applaude lui non applaude lei non applaude ci aveva proprio ragione quello che aveva detto e Fru non ci aveva niente da dire si dice così proprio ragione commento papà di Fru è l'utente ma quindi Fru tu non dici quando ti chiedono che lavoro fai tu non dici sono un attore sì no io dico attore ah lui ci sono un attore perché in The Giugan io sono un attore autore poi non è che come devo dire è vero che uno scrittore per essere uno scrittore prima di essere un lettore ma non è che ho mai visto film però pure io ho una grossa lacuna in certe cose soprattutto in cultura italiana ci stanno io l'ho così come ci sono così come ci sono cose che lui conosce io non conosco minimamente credo sia un fatto proprio di tipo lui la state facendo sembrare più grave di quello che è in realtà non è così comunque io sono ubriachissima Ciro ma perché tu non bevi mai ubriachissima posso bere piano piano io reggo zero non so se prima vabbè ubriachissima da Fazio ci siete andati già? no no ok quello secondo me è lo step successivo ma si che perché adesso sono ubriaco quindi non parlo così successivo di che? cioè qual è lo step successivo? stai dicendo di Ciro fammi finire dopo Massimo Ramieri c'è Fabio Fazio scusate scusate sono pensato mentre mio padre abiliscia comunque avevo ragione sul fatto che dopo il terzo mirto si va adesso si parla sentimento si è vero ora quanto manca? dieci minuti dieci minuti di io ho un amico questa cosa la ripeto spesso che mi dice che secondo lui è una sua teoria che io ho fatto mia ok come tutto io rubo dico che le cose sono le ho dette io ma l'ho fatto spesso anche in questo podcast appropriandomi di cose che ha detto Barbero ma io faccio cose che dici tu ma almeno tu mi citi è stato geniale neanche la fonte no è vero dice solo lui cita cose che tu non ti ricordi nemmeno di aver detto sì se no è tutto un giro cioè dopo tutto si mette a spiegare Welfi e Ghibellini degli avvenazzati che parlano su un palco comunque la teoria del mio amico è che quando ce l'hai fatta in questo paese vai da Fazio cioè che il momento in cui tu vai da Fazio effettivamente è la consacrazione effettivamente anche Obama è andato virtualmente prima non lo conosceva nessuno quindi Obama ce l'ha fatta sì sì complimenti Barack Barack Buratini quindi ce l'ha fatta allora secondo me ma perché cioè che tempo che fa effettivamente è un riferimento televisivo per le interviste cioè secondo me ha un che di vero questa teoria di cui ti sei appropriato forse in talk show anzi in late show però mi chiedo che tempo che fa si è già aperto al web non lo so cioè nel senso che tutte le interviste che ho visto beh sicuro passano comunque per il web quindi sono mai andati i personaggi del web a che tempo che fa è sempre la questione del fatto che voi vi sentite web e io non vi vedo web cioè io vi vedo secondo me come delle celebrità ha tutto tono grazie sei una celebrità per me Ciro questo volevo dire tutto questo è stato fatto perché io potessi dirti questa cosa no mi sento non so sono molto in imbarazzo ma grazie ma sì è vero comunque quando uno ce la fa va da fazze secondo me che il late show italiano è il nostro Jimmy Fallon è il nostro Jimmy Fallon ma tutti gli effetti cioè nel senso che tutti i più famosi vanno lì perché no magari a me piacerebbe andare a che tempo che fa no io sai che figuro di merda che gli dici molto eh no ascolto non seguo non rispondo alle domande ho venito anche voi io andrei ma invita solo me a caso ma sono sicuro che non rispondere guarda ogni sua domanda no che poi capito Fazio fa domande e risposte quindi tu sei proprio mamma mia che paura no vabbè però ti fanno pure il servizio però è il nostro late show perché cioè lì dove il pubblico medio americano magari da Fallon e poi più capito Jimmy Fazio ma sai ma sai perché ti dico questa cosa perché il percepito come io ti dicevo all'inizio The Jackal era un po' un benchmark e io vi vedevo ad esempio vi dico una cosa veloce nel libro che a un certo punto abbiamo mollato non l'abbiamo più citato voi parlate di un momento di difficoltà dei The Jackal in cui avete iniziato a fare dei no l'avete fatto una volta forse dei seminari di montaggio proprio per era per pagare il il fitto dell'ufficio a pagare il fitto dell'ufficio ok non riuscivamo proprio a mantenerci quindi ad Alfredo era venuta la bellissima idea di poter organizzare dei corsi di After Effects e Photoshop all'interno del nostro studio per poter arrivare quanto meno a pagare il fitto dell'ufficio voi l'avete vissuta quindi come un momento di difficoltà ti devo dire che in quel periodo non ero mai non ero io sono pur essendo dall'inizio uno degli storici di The Jackal però all'interno delle dinamiche societarie e amministrative di The Jackal non ci sono mai entrato di fatto i soci fondatori sono Alfredo Francesco e Ruzzo Simone quindi sono loro che sono un po' più dentro al tema amministrativo della società io in quel periodo no in quel periodo sono sempre stato un dipendente quindi in quanto tale non ero a conoscenza di tante dinamiche vedevo di questi corsi non pensavo minimamente che ci fossero dei problemi da questo punto di vista cioè che non avevamo neanche la possibilità di poter pagare il fitto ma tu pensa che andasse tutto bene no io pensavo ok va bene quando ho letto il libro ma è tutto cinque minuti fa questa cosa nel senso avevo il sentore avevi il sentore che qualcosa non andasse ecco perché non mi pagava no però io questo volevo dire in realtà anche se in quel periodo eravamo così come dice il libro in difficoltà io nonostante quello ho sempre ricevuto il mio stipendio sul conto il quindici di ogni mese ah qui dici ma che cazzo i ragazzi no no io sto parlando ma che commercialista no poi parlo commercialista sto dicendo un momento di difficoltà e io da dipendente non ne ho risentito quindi è una cosa comunque se avessimo qua chiaramente i fondatori nonché soci della società avrebbero tutt'altro parere cioè non navigavano nel loro allora no e mai che sto dicendo quello che io stavo cercando di dire stiamo molto interrogando è che questa cosa no che Moshiro ti dà l'estratto conto no non ti dà l'estratto conto però per dirti è stato un momento difficile io non avevo completamente coscienza da questo punto di vista ovviamente non quando ho letto il libro avevo ovviamente il sentore un anno fa l'ha scoperto ragazzi allora quello che io cercavo di dire è che mentre accadeva questa cosa e voi facevate i seminari per pagare l'affitto dall'esterno tutti noi che ambivamo a essere come i The Jackal non sapeva c'era la percezione che invece stesse facendo una cosa nuova che tutti dovevano fare e altri hanno fatto seminari in quel periodo magari non lo sai e hanno provato a scimmiotare questa cosa perché lo fanno i The Jackal lo dobbiamo fare anche noi cioè non sembrava una cosa che stesse facendo perché eravate la canna del gas ma perché era figo anche perché non c'era questa immagine tant'è che io infatti sono entrato in The Jackal proprio in un periodo di rinascimento sciacallico pensando che ci fossero i soldi a pagare ma sì perché io vedevo The Jackal da fare questi hanno i video con le star ma io lì volevo arrivare il fatto che magari io vi percepisco come così perché vi vedo assieme a persone vi vedo con Saviano vi vedo con Elettra Lamborghini dovevo metterli in conto devo dire prima o poi l'altro in questo ordine di importanza allora allora cioè noi in redazione siamo molto fan di Elettra Lamborghini devo dire anche io pagheremmo per poter fare quello che avete fatto voi con Elettra Lamborghini l'amore l'amore allora che in questo momento sta accadendo fru che fai? oh no fru ah non l'avevo capito molto bene oddio ora è un po' guarda vedo che comunque ci sia che nome ama che nome ama ma chi fa il gesto? scusate non ho visto il gesto spero non fosse nulla di particolare ma chi fa il gesto? non si vede perché ascolta non lo dite? sì ho capito fru ma ci sono le telecamere no ma no ma siamo tra noi questa cosa non lascia la mano nella mia testa era lei che twercava ok oh lei c'ha il disco che twerca twerca in quinta io ho saputo che questo podcast non ha tagli è vero? sì non cioè non prevede tagli questo no no oh ci penserei mi dobbiamo ammazzare e cancellare tutto ma tagliamo fuori sette minuti a questo punto facciamo comunque ma che in su? fru per voi collaborare con persone posso dire una cosa a me una cosa che mi rinfacciano sempre è che io sono entrata all'interno di The Jackal quando era già tutto facile cioè nel senso io sono entrata quando l'immaginario The Jackal era già consolidato allora adesso se noi vogliamo un cameo nel nostro video il più delle volte la persona il VIP che noi chiamiamo ha già presente The Jackal stima The Jackal come progetto e accetta ben volentieri immagino fosse diverso il caso vostro a meno che ti basti pensare Alessandro Gasman l'abbiamo dovuto incastrare cioè nel senso noi siamo andati lì perché lavoravamo con un giornale che ci faceva realizzare delle interviste era il festival no no non era fanpage competito ma all'epoca non esisteva ancora no vabbè non esisteva ancora e andiamo lì era festival del cinema di Napoli insomma la segna cinematografica su Napoli arrivò come ospite Alessandro Gasman noi dovevamo fargli delle interviste e nel fargli questa intervista gli facciamo delle domande su cosa ne pensava del cinema emergente dei giovani questa roba così lui ha tante bellissime parole per i giovani abbiamo bisogno di nuovi giovani che si buttino nel mondo del cinema quindi si incastrò da solo tant'è che noi gli facemmo la domanda anche noi siamo una piccola società di videoproduzioni faresti una particina per noi in un video ecco lì abbiamo incastrato Alessandro Gasman con una videocamera lui non potrebbe dire infatti c'è all'inizio di questo video che si chiama The Gasman che è un supereroe interpretato da Alessandro Gasman infatti c'è il gioco di parole The Gasman la generale è che non ci doveva essere lui fisicamente perché era era mascherato era riforme poteva essere chiunque cioè nel video parte prima l'intervista sua che dice no io sono contento che dei giovani dovrebbero buttarsi nel mondo del cinema e poi parte il fake trailer che avevamo realizzato quindi diciamo all'epoca dovevamo anche un po' ingegnarci nel cercare di avere dei personaggi ingannandoli esatto ingannandoli infatti chiedo perdono per qualche volta ci sono dei grossi personaggi con cui vorreste collaborare e ancora non avete fatemi un nome ognuno Aldo Giovanni e Giacomo vorremmo collaborare Aldo Giovanni e Giacomo che davvero ti dici wow questa persona solo Giacomo di Aldo Giovanni e Giacomo solo Giacomo gli altri due non alziamo non alziamo i sogni solo Giacomo cioè The Jagal e Giacomo di Aldo Giovanni e Giacomo intra parentesi allora io forse vorrei coronare un mio desiderio nazional popolare che nasce dalla mia adolescenza che è Tiziano Ferro ok vuoi cantare con Tiziano Ferro no no ho già fatta questa domanda a qualcun altro lavorare qualche mese valga credo sia il famoso rapper imprenditore filantropo esatto Federico guarda no io sono sempre stata una grande fan da piccola ho dovuto insomma coniugare la mia passione per il cantautorato italiano e Tiziano Ferro vero? ok non è cantautore no però vabbè Guccini Dalla Battisti Tiziano Ferro ok è uguale è la stessa cosa rosso relativo è cara sono per elettra Lamborghini no welcome che nuovamente a me questa cosa confonde perché io ricordo distintamente che una volta avevo 17 anni avevo litigato con la mia fidanzatina del tempo mi dispiace sì 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 come mai Ale non mi ricordo è per la cosa che sto per dire molto peggiore e per chiederle perdono con la X con la X avevo telefonato a Tiziano Ferro sì vero? ma cosa dice a 17 anni? ma cosa dice gli ha dato lei signor Fru ma cosa dice ma lei è pazzo è diventato pazzo e avevo cantato la canzoncina perdono no per quel che è fatto non aveva risposto lei comunque la storia finisce comunque no aspett sono curioso aspett aspett immaginiamo ferma chi ha risposto? immaginiamo la scena sai com'è la scena che risponde fa perdono Ciro io voglio la telefonata di Ciro Ciro tu sei Alessandro e questo è tutto grazie per aver guardato possiamo dire il nome della fidanzatina grazie a mia regina all'altiere proprio inventartene una ok va bene non serve non serve non serve allora Ciro tu sei Alessandro e fai la telefonata come si faceva all'epoca non mi ricordo non ce l'ho vabbè è un po' vax pronto mi passi vai vai hey pronto 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 perdono se quel che è fatto è fatto io però chiedo scusa regalami il sorriso io ti porgo una rosa se quel che è fatto è fatto io perdono ma l'hanno fatto a fare tutto è soltanto a fare tutto l'ho interrotto eh sono la mamma signora c'è giada no vabbè dite che ho chiamato ho cantato perdono non ho fatto niente io non ho fatto niente in questo sketch che se potessi farlo ora canterei Pem Pem diretto a Lamborghini facendo gesti al telefono metti face up sono la mamma meglio esatto dai frutici con chi vuoi collaborare liberiamoci di questo pezzo no guarda metto tutto ora non mi viene davvero in mente nessuno forse vorrei fare ora proprio ora in vista di Sanremo un video con Amadeus ok vero che però vabbè lo conosciamo cioè hai fatto pure i soliti ignoti vabbè però vorrei fare un video sì sarebbe fighissimo però dico non è inaccessibile cioè non vi vengono più neanche le ansie tipo ah adesso c'è questa persona perché non c'è qualcuno dito forse qualche artista internazionale frughe ne so eh esatto sì qualche artista internazionale sarebbe figo avere esatto ci sarebbe qualcuno internazionale Ricky Gervais Ricky Gervais è facile che ci vuole gli effetti di Gomorra su Ricky Gervais gli effetti di Afterlife sulla gente c'è sta così stay without talks è arrivata dopo la traduzione che era sta senza pensare perché era un po' più neanche il pubblico di Breaking Italy speriamo nel deepfake così collaboriamo con chiunque illegalmente stay without talks basta è dell'anno dell'illegalità bravo scusaci no no è bellissimo oh sai è qui perché fru si sta facendo i fatti sui io e Aurora abbiamo cominciato a parlare di fatti nostri Ale tu che stai facendo scusate no io io stavo canticchiando perdono parliamone poverino Alessandro che è stato sempre abituato a fare interviste a una persona sola siamo arrivati questi tre stiamo mettendo in difficoltà tre esseri non abituati al mito adesso mi parte Breaking Italy e annuncia in borsa e biglietti perché ridete ma fru qualcosa da dire ce l'ha o non ce l'ha chiediamolo hai detto qualcosa niente niente fondamentalmente ma di base io faccio questo gioco perenne mi metto sempre in questa cosa di fare continuamente battute se no mi sento sempre che mi crolla il mondo addosso lo voglio dire non volevo intervirvi ragazzi comunque non volevo intervirvi in una sitcom cioè capito quando dici una cosa ma così si giravano infatti più o meno capito dici una cosa così fanno di una cosa romantica così c'è il ah ditemi cosa fate per Sanremo è l'ultima domanda che vi faccio a sto giro per Sanremo e posso essere presente se c'è anche l'Elettra Lamborghini ma tu non lo guardi tu non lo guardi non l'hai mai visto non mi interessa durante la settimana tu fai comunque un shopping in Italy che non parla di Sanremo perché non ti piace parliamo della guerra e mia mare di Sanremo Massimo cosa sta succedendo aiutatemi no allora per Sanremo stiamo facendo no non possiamo spoilerare troppo però sicuramente faremo delle cose farete delle cose wow tra l'altro no si può dire che andremo e che facciamo facciamo sicuramente il divano che non sono format transcript facciamo il divano loro fanno i braccioli così si chiama è un format no e poi andremo andremo fisicamente a Sanremo così come è successo nel nel 2019 quando guarda è una presenza maggiore nel festival no non lo posso dire bugiardo no secondo me no quest'anno no poi soprattutto col covid è difficilissimo proviamo ora ti dico no ma ti confesso storia vera ma non so come provartela te lo giuro sull'amore per il tatuaggio leopardato diretta Lamborghini segnute però tipo idee come quella in cui abbiamo rapito Favino nel 2018 sono venute dieci giorni prima del festival sono state scritte girate e montate a dieci giorni dal festival girate in due ore tipo sì tipo sì l'avevo letto Favino doveva salire ah è vero abbiamo scritto nel libro è scritto nel libro è vero ci aveva dato tipo due ore di permesso per poter poter girare abbiamo dovuto fare tutto in quel in quel tempo lì poi si stava divertendo talmente tanto e ha detto vabbè dai ragazzi altri cinque minuti ci aveva concessi abbiamo fatto tipo i vari codi vabbè comunque in questo periodo è veramente tutto incerto compreso il festival sì sì è difficile quindi c'è navighiamo in questa incertezza cioè ora è difficile girare con alcune guest soprattutto quelle che partecipano a Sanremo anche giustamente c'è Sanremo e quindi entro in questa sorta di bolle anti-covid esatto in cui è difficile uscire per quanto noi giriamo sempre secondo il protocollo covid un doppio tampone io per esempio conto tutti i tamponi che faccio tre tamponi a settimana io so quanti tamponi ho fatto esattamente fino ad oggi quanti sono? 136 davvero? sì i conti? sì li tieni anche? no sì li li con elettra però una cosa i molecolari a lei una cosa che ci tengo a dire è che molti persone pensano che noi in realtà collaboriamo con Sanremo ma non è così tutto quello che noi facciamo su Sanremo è completamente pirata da parte nostra piratato traduco Sanremo non ci paga no ma perché io ricordo quelle volte in cui ci abbiamo provato abbiamo fatto delle proposte al festival abbiamo detto possiamo fare questa cosa ma ve la posso dire che magari un giorno riusciremo a farla però mi avete conto che questa cosa prende in giro proprio l'istituzionalità del festival sì e non lo vogliamo fare no allora non voglio allora non vuoi fare una cosa almeno no ok questo potrebbe essere uno degli esempi in cui effettivamente è la domanda che avevo fatta all'inizio ma ecco il discorso dicevo pure prima del fare le cose perché le vuoi fare capito che è proprio una delle nostre regole di base fondamentalmente almeno cerchiamo il più possibile di fare quello che vogliamo fare è che vogliamo farlo vogliamo dirlo ok mamma mia ecco questo grazie e soprattutto non fumate generico così perché va sempre bene avevo altri un miliardo di altre domande da farvi quindi vi dovrò reinvitare a un certo punto oppure ci vediamo per Sanremo quando c'è anche le trampoline dai ma tu se mi inviti sì ti inviti tu ti dicevo prima ah scusa no vai come dicevi prima essendo tanti tu puoi invitare man mano un pezzo ah sì la prossima volta ci sono altri tre Fabio Simone Francesco piano piano esatto faccio le stesse domande è le collezioni tipo il Pokédex dei De Giaca in realtà io vi ho fatto tre domande tutta la sera anche perché infatti ne ha fatte tre su sedici sei contento di commentare che cosa abbiamo imparato da questa serata è arrivata benone grazie 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 eh grazie abbiamo la parte difficilissima grazie adesso faccio i video adesso 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 voglio salutare a voi grazie mille grazie a tutti questo è tutto per oggi grazie per aver guardato noi ci vediamo alla prossima qui su Breaking Italy eleggiamo la regina e l'alfiere di questa sera c'è un'ora ciao molto bene ciao un abbraccio figlio mio scusami scusami tutto in ottemperanza alle regole anticovid dove vai? ancora scusa pensavo di essere finito ciao grazie a tutti vi saluto così spero non so se vi spero abbiate imparato qualcosa non potete andare sono sicuro qualcosa ne tirerete fuori potete certamente potete pure accomodarvi un po' diversa spero vi sia piaciuta niente vi ringrazio soltanto grazie per essere stati qui è stato complesso grazie agli sponsor Tridome e Gimme 5 che al solito mi permettono di fare sta roba per me è divertentissimo sto giocando quindi grazie a voi grazie a tutti buonanotte buonanotte di G24 fan fan dara i tedeschi sono solo breaking breaking breakin' Italia guau 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 sono la gitania sping baila 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 sping la boy guau woh wou wou breakin' Italia visto non ti ho lasciato in visto io sono un necromisto Proprio come sto disco Daio di un fil di canna Si vendiamo su la scelta Dove il tiziano vende gelato stacuarra Dove le ragazze che è bacano su la falla Sparca no fica, ni fuggiti, stagini macha Siamo pura gentaglia Sardi Gale News, break in Italia Sismo ave la falla En tuo culo è gelatina fanfare Wawa 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 En tuo culo è gelatina fanfare Bala 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 bala, canta 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 Canguretta come quali in Australia Breakin' cre vrai Breakin' Italia Cangurettace Sollo Italia Bala 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 Sparca no boi Wawa 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 Break in Italia Scremlo